Il grande Franco Mussina con noi questa mattina insieme anche a Mox, Mox Cristadoro, sei tornato a trovarci E chi vi ho portato? Buongiorno, ma chi vi ha portato? Chi ci ha portato? Io sono sempre felicissima Siamo arrivati con le nostre gambe, siamo benissimo, siamo ringiovaniti E' bello averti con noi, tutte e due perché anche lui un po' che non lo vedo Buongiorno, buongiorno Ci voleva l'occasione Monica L'occasione c'è, grande occasione Entriamo subito a bomba, perché adesso ascolteremo e vedremo anche i video dei pezzi Franco Mussina, Il pianeta della musica e il viaggio di Yotu E' l'album, finalmente dopo tanti anni, album solista Anche atteso devo dire, da parte dei grandi fan Allora ti correggo subito, non è un album solista E' un album di Franco Mussina Non sono solo, sono in compagnia Esatto, c'è un cast di lavoro In compagnia di me stesso e di un sacco di amici che incontrerete poi dentro Ok, certo, chiaramente il riferimento è al suo bagaglio storico che tutti conosciamo Certamente Allora questo è un disco particolare Partiamo con l'informazione di servizio Venerdì, questo venerdì, quindi dopo domani sera alle 18.30 Feltrinelli in Duomo Presentazione ufficiale, almeno sulla piazza di Milano Di questo disco in compagnia di Franco Quindi il solito firma copie, dialogo col pubblico E racconto nel merito della questione Io passo subito la parola Prima di fargli quel paio di domande, quelle mie curiosità Passo subito la parola a Franco Quindi dopo tanti anni di gestazione Finalmente hai dato forma a questo lavoro Che esce peraltro per un'etichetta Per il CPM Tu sei la testa pensante dietro il CPM Da quando è nato nell'84 Adesso è anche una funzione discografica Quindi ti sei prodotto il disco Che comunque è distribuito self Lo troviamo nei negozi e tutto Ma sì, ma io mi sono fatto studente Per cui a un certo punto ho detto Anche perché poi bisogna parlare e essere coerenti E quindi siccome oggi gli standard che ci sono Sono degli standard molto fermi, molto legati, molto strutturati Fin troppo secondo me Anche dal punto di vista proprio del suono Che tutti quanti noi ascoltiamo nella musica popolare tutti i giorni Ho detto ma guardate che ci sono tante altre forme Cioè la musica popolare può avere tante diverse forme Allora per prima cosa dovendo fare un disco Ho voluto mettere i miei 30 anni di lavoro E di pensieri sulla musica e sulla mia generazione Dentro composizioni che non sono composizioni classiche tra virgolette Quindi è anche un lavoro di ricerca in certi versi Poi il tema della mia generazione L'ho tratto per esempio nel primo video Che è Io, Noi e la musica Noi siamo una generazione meravigliosa Nostra abbiamo vissuto una età splendida Abbiamo una specie di batteria da accumulo Che ci portiamo dentro nonostante gli anni Che sono ancora i ricordi di questo periodo meraviglioso Abbiamo restituito pochissimo i ragazzi Abbiamo ancora un sacco di cose da dire e da dare E quindi diciamo che questo video che vedremo Racconta proprio di quanto ancora la musica E soprattutto quanto la nostra cultura Basata su dei valori che non siamo riusciti a restituire Può essere utile ancora oggi Lo mettiamo? Assolutamente lo sta lanciando Lui ha già raccontato in quanto ha dato la situazione Non rimane che ascoltarlo e vedere il video Quindi Io, Noi, la musica Franco Mussida, meraviglioso Stiamo facendo un viaggio esperienziale Perché questo è, spero abbiate visto anche il video Scaricate l'app, guardateci sempre in tv Ci sono un sacco di contenuti Un video animato E con noi anche Mox, Cristadoro Che lo ha accompagnato qui Sì, allora Io, Noi, la musica Questo è l'estratto Uno dei due che appunto ci concederemo oggi Per questo intervento con Franco L'ultimo album di Franco a suo nome è Racconti della tenda rossa A parte l'intervento che hai fatto con me Che quello è un frammento Su un disco mio Racconti della tenda rossa è del 91 Quindi affinità e divergenze Cos'è successo in questo trentennio Tra questi due lavori in breve Insomma, perché io una sorta di continuità Comunque ce la vedo Allora, in breve Una gente mi conosce Per le ragioni che sai Per le ragioni che conoscono tutti La BFM per me è stata una cosa meravigliosa Mi porto dietro un'esperienza bellissima Sono quello che sono anche per queste ragioni Però la gente non sa Che c'è sempre stato un parallelismo della mia vita Da un lato c'è la BFM E dall'altro c'è il mio lavoro nel carcere Un lavoro di ricerca Lavoro sulla scuola Ecco, tutti questi trentacinque anni In qualche modo li ho riassunti Adesso che dentro questo lavoro Mi sono occupato di cosa? Mi sono occupato delle energie dell'uomo Noi abbiamo sempre Parliamo sempre dell'energia elettrica Dell'energia idroelettrica Dell'energia atomica Ultimamente in maniera piuttosto Diciamo imbarazzante Però non ci occupiamo dell'energia dell'uomo Che è quella che crea Che è quello che bene o male crea la realtà E che ci fa scegliere Quindi questo viaggio è un viaggio all'interno Della nostra struttura emotiva Quindi è che è riassunta poi In un brano Diciamo che il loro del suono Che sentiremo dopo Ha dentro un pochino Tutti questi aspetti A questo proposito Io infatti La mia curiosità è Visto che in questi anni Come hai appena detto tu Ma l'avrei detto io Ti sei occupato parallelamente Di gran lavoro nelle carceri Insomma di divulgazione nella musica Ma soprattutto di una ricerca Che ti ha portato a delle conclusioni Anche sul piano scientifico Di quella che è la correlazione Tra il suono e la La dimensione emotiva della persona La dimensione emotiva della persona Ecco Alla luce di queste ricerche Che poi hai documentato bene nei libri E di queste scoperte Nel E quanto ti ha un po' influenzato Magari anche in maniera inconsapevole Nella composizione di questi brani Questa cosa che sai che hai scoperto Cioè l'influenza che ha sulla Sulla psiche umana Per me questo è il motore Cioè è il motore È il motore La nostra vita Quello che vediamo Non sarebbe niente Saremmo un frame fermo E non potremmo muovere nulla Se non avessimo un'energia interiore Che ci permette di muovere le mani Le gambe Tutto quello che siamo Non siamo quello che vediamo Parte tutto da dentro E questa dimensione interiore È quella che deve essere in qualche modo Non solo scoperta Ma deve essere Cioè i ragazzi se ne devono accorgere E anche l'educazione Quindi partendo dalle scuole Deve tenere conto Che un buon cittadino Per essere un buon cittadino Deve poter lavorare Sulla sua dimensione interiore Quindi Nell'oro del suono Si dicono Un sacco di cose Che proprio rimarcano Il ruolo della musica Non semplicemente come Diciamo Non lo svago Anche un elemento di leggerezza Ma come uno strumento utile A farci diventare Uomini e persone migliori Quindi anche in fase di composizione Ti sei Assolutamente Ho voluto raccontare Questo aspetto Tieni presente che L'oro del suono Che adesso vedremo Lo hanno ascoltato Per la prima volta I ragazzi del laboratorio CO2 Che sta a San Vittore Sono i ragazzi della nave E quindi Loro sono stati i primi Ad ascoltare Hai testato questa cosa Va bene Adesso ascoltiamo il brano Ricordiamo allora Appuntamento Feltrinelli di Duomo Venerdì Che è il 21 21 sì Dove parleremo Tra l'altro Del suono immersivo E della capacità Della qualità del suono Di portarci in luoghi Assolutamente straordinari Che non ci immaginiamo neanche Dove la parola Fa fatica ad arrivare E ci sarà anche Il produttore Del disco Lorenzo Cazzaniga Con il quale Racconteremo un po' La storia di questo Ecco Per gli appassionati di musica Specifico L'album è uscito In supporto CD Ma anche in supporto Doppio vinile Che ci vuole E arriverà anche in Blu-ray Atmos Magari ci rivedremo un'altra volta Ci rivediamo quando vuoi Comunque è ordinabile anche sul sito CPM È ordinabile anche sul sito CPM Con firma di autografo e dedica di Franco Quindi questa è una cosa in più Quando vuoi vieni a trovarci Ma certo che vengo Sai che ti aspettiamo sempre volentieri Grazie anche a Mox Cristador Un amico E grazie a Franco Rossida A voi L'oro del suono L'oro del suono Certamente Ricavare oro del suono